In un momento di crisi generale per le famiglie e per le imprese è necessario orientarsi quando si parla di investimenti o comunque anche di semplici richieste di finanziamenti. Questo è l'obiettivo di Banca Carige, quello di orientare una clientela selezionata che oggi è stata invitata qui nella Villa Regina Margherita a Bordighera, uno scenario splendido dove è possibile coniugare alla finanza anche arte e cultura. In un momento di crisi generale di Banca Carige, l'onorevole Alessandro Scaiola, per capire innanzitutto come nasce l'incontro di oggi. Nasce da questa esigenza che noi avvertiamo, ma questo vale un po' in tutta Italia, di un contatto molto stretto tra la banca, i nostri funzionari che hanno un livello di preparazione elevata, con i nostri clienti maggiori o i clienti più affezionati, perché in un momento travagliato come questo, con la borsa, gli alti e bassi, le difficoltà che ci sono, è necessario dare delle spiegazioni, non far fare errori, aiutare i risparmiatori, i nostri clienti, perché dubbiamente parlare di risparmi perché oggi fa caldo, i nostri clienti aiutarli e indirizzarli al meglio perché quantomeno si contengono i danni e anche, le dirò, si facciano anche dei guadagni. E la banca dei guadagni ne garantisce comunque, perché noi abbiamo un'azione che al di là dell'andamento, che tra l'altro nel sistema bancario in genere e nel sistema della borsa è un'azione che si difende, ma al di là di questo è un'azione che dà un utile, è una delle pochissime azioni che hanno un utile invariato ormai da quattro anni, quindi ha attraversato tutto il periodo più duro della crisi senza variazioni nella percentuale di utile, di dividendo, che viene attribuito ai nostri azionisti con evidente loro soddisfazione. Ma vogliamo questa gente sentirla, vederla, contattarla, tenerla vicino, far sì che abbiano la necessaria confidenza con i nostri funzionari di banca per potersi poi quotidianamente rivolgere a loro. Ecco, qui oggi si coniugano non solo la finanza ma anche l'arte, siamo in una splendida cornice, in questa villa meravigliosa, con una mostra stupenda, ma ha ancora senso per una banca fare anche cultura? Beh, certamente la domanda è più che legittima. C'è da dire questo, che la nostra è una banca particolare, la nostra è una banca che affonda le sue radici nella esperienza di cassa di risparmio e la cassa di risparmio non è una banca che è nata soltanto per fare utili o per avere dei vantaggi, è una banca che è nata per stare vicino al territorio, una banca del territorio, è una banca vicina alla gente, quindi con tutte le esigenze della gente, certamente anche la cultura. Eban Cacarige, anche nel settore della cultura, fa degli sforzi, ha fatto degli sforzi notevoli. Io vengo da pochi giorni da un'esposizione che abbiamo voluto fare a Palermo, intitolata Invito a Palazzo, perché abbiamo invitato i cittadini e abbiamo avuto anche una bella fluenza di gente, a venire nel palazzo dove opera la cassa di risparmio, la direzione dell'area della cassa di risparmio della Sicilia, a Palermo per vedere anche dieci quadri meravigliosi che abbiamo portati da Genova per metterli a disposizione dell'occhio, della curiosità, dell'interesse dei palermitari. Quindi questi quadri, abbiamo una collezione di numismatica, abbiamo tante bellissime cose. Facciamo tutti gli anni un premio riservato alla donna scrittrice, che è il premio Rapallo Carige, che ha un successo crescente. E noi non riusciamo a fare a meno di riservare anche uno spazio per rispondere alle esigenze più profonde dei nostri cittadini, dei territori dove operiamo, che ormai praticamente sono tutto il territorio nazionale, anche uno spazio riservato alla cultura, anche uno spazio riservato all'arte. Qui siamo in un paradiso, questo di Bordighera, la casa, la villa della regina Margherita, che giustamente era innamorata di questa splendida cittadina che è Bordighera, in una posizione eccezionale, bellissima, dove è bella certamente la villa. Sono bellissimi i quadri che qui ha messo a disposizione la Fondazione Terruzzi e che sono certamente una cosa di grande pregio, di grande prestigio. Evidentemente la banca e la fondazione non potevano non essere vicini e quindi siamo belli contenti di portare anche i nostri funzionari, i nostri clienti qui in questo posto meraviglioso a parlare di cose magari meno belle, meno carine, meno divertenti, come sono i problemi della finanza. Gabriele Del Monte, il vice direttore generale di Banca Carigge, ecco c'è un problema di crisi che riguarda tutti sicuramente, ma il mondo dell'impresa è normalmente il più esposto, il più colpito e da questo poi si ripercuote tutto come una catena perversa. Sicuramente il momento non è semplice, la recessione ormai è lunga e dura da tanto tempo e ha veramente messo a dura prova le nostre imprese. Noi come banca proviamo a continuare a fare la nostra parte, nell'attività tipica di cassa di risparmio siamo sempre vicini ai nostri territori, ai territori in cui operiamo per essere vicini sia alle imprese che alle famiglie. Al contrario di quanto è successo in altre situazioni noi continuiamo a erogare credito e lo dimostrano i nostri dati di bilancio che dall'inizio della crisi a oggi dimostrano trend di crescita dei nostri impieghi assolutamente importanti, quindi noi continuiamo ad offrire supporto alle imprese e siamo convinti che riuscendo ad infondere un po' più di fiducia anche nei nostri consumatori potremmo comunque aiutare le imprese stesse ad uscire dalla crisi, perché oggi noi quello che vediamo è fondamentalmente anche una crisi di fiducia da parte dei consumatori che ha portato poi al trocollo dei dati inerenti all'indice della fiducia dei consumatori e all'andamento dei consumi interni. Approfittiamo della presenza del direttore del private banking di Banca Carigie, Andrea Gaini, per cercare di affrontare un po' anche i temi legati, ahimè, alla crisi, perché siamo tutti nell'attesa e nella speranza di poterne uscire, ma sappiamo che le difficoltà ci sono. E allora, approfittando della sua conoscenza, della sua presenza qui oggi, cercare di capire intanto come vede lei il futuro dell'Europa, di questa Europa anche un po' messa in discussione. È un percorso di integrazione certamente non facile e certamente ancora lungo. Siamo partiti nel 92 con l'accordo di Maastricht, in cui abbiamo messo insieme le forze per raggiungere un'unione monetaria, che abbiamo raggiunto in modo molto positivo all'inizio degli anni 2000, però oggi vediamo quanto è fragile un'unione monetaria senza un'unione fiscale e un'unione politica. Purtroppo l'unione politica richiede tempo, i tempi della politica non sono i tempi della finanza e questo mismatching tra tempi sta influenzando i mercati in modo molto negativo in questi ultimi mesi. Per fortuna un bagliore si vede all'orizzonte dopo l'intervento della Banca Centrale Europea del 6 settembre, un miglioramento e un paracaduto è stato dato ai mercati finanziari che proprio in questi giorni lo stanno valutando in modo molto positivo. Qualcuno sostiene anche che questa crisi sia stata una crisi un po' costruita, qualcuno cita anche in causa il sistema bancario internazionale, europeo, e poi si contrappongono anche i punti di forza e quelli del nostro Paese. Allora intanto vorrei una valutazione da parte sua sul fatto di questa crisi, se c'è, se esiste, beh, oddio, la tocchiamo con mano, ma capire in che termini e quali punti di forza noi possiamo mettere in gioco. La crisi c'è, è palpabile, parte dagli Stati Uniti, parte dal mondo finanziario, parte dalla troppa finanza che abbiamo costruito su un'economia reale che è rimasta stabile negli ultimi anni. Pensate che nel mondo ci sono 60 mila miliardi di prodotti interno lordo e 700 mila miliardi di strumenti finanziari. La crisi è partita proprio dalla finanza degli Stati Uniti, il passaggio poi sull'economia reale è stato molto rapido e purtroppo il passaggio sugli Stati che per salvare l'economia finanziaria e reale si sono indebitati molto è stato immediato. Infatti la crisi dell'anno scorso è una crisi che parte proprio dai debiti sovrani degli Stati e diventa una crisi di credibilità dell'euro. E poi purtroppo, come stiamo vivendo in questi mesi, viene meno la voglia di consumo, viene meno la certezza sul futuro e viene più e sempre più forte il concetto di incertezza. Questo blocca ancora una volta i consumi e crea una spirale sicuramente pericolosa e negativa. Quindi la crisi c'è, la crisi esiste, il percorso europeo è in corso e certamente combinare tanti elementi insieme non è cosa facile. I nostri punti di forza ne abbiamo? In Italia ce ne sono tanti di punti di forza. Abbiamo un risparmio privato che è tra i più alti del mondo con 8.600 miliardi di risparmio privato. Abbiamo le terze riserve auree del mondo dopo Stati Uniti e Germania, quindi a un livello sicuramente molto molto importante. Abbiamo un contenuto disavanzo con l'estero, abbiamo quindi i conti a posto nel saldo della bilancia dei pagamenti e abbiamo poi un debito privato molto basso. Per contro abbiamo anche un debito pubblico molto alto e un rapporto debito pubblico PIL invece non particolarmente alto. Quindi tre elementi di grande forza e un elemento di grande debolezza, il debito pubblico. Non vorrei fare inorridire chi rappresenta una banca che del risparmio ha fatto, possiamo dire, la bandiera, ma oggi risparmiare e quindi anche investire vale ancora la pena? È una cosa ancora da fare? Intanto il risparmio è la quota di reddito sottratto stabilmente dai consumi, quindi vuol dire che per risparmiare bisogna avere la possibilità di risparmiare. Il reddito disponibile italiano è sceso molto, sono aumentati i consumi negli ultimi 20 anni in modo molto forte, fino all'inizio degli anni 2000 è aumentato anche il reddito disponibile, e poi purtroppo il reddito disponibile italiano è rimasto fermo. Quindi c'è sempre meno la capacità di consumare, c'è sempre meno però la capacità di accumulare, perché il reddito non basta più. Quindi se si ha la possibilità di risparmiare, certamente è importante farlo, diventa cruciale gestire bene il proprio patrimonio, quindi non farsi abbagliare da mode temporanee, diversificare molto bene il patrimonio su varie classi di investimento, è un consiglio un po' di parte che do, è rivolgersi sempre a un professionista che sia in grado di portare razionalità nel processo di investimento che ora è sempre più emotivo.